bravo ragazzi bravo ragazzi bravo ragazzi ok ok, like a Rolling Stone aspettiamo questo bravo ragazzi bravo ragazzi ok 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 solitamente chiudiamo i concerti in questo caso si chiama Black Rolling Stone allora 1, 2, 3, 4 4, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 4, 5, 5, 1, 2, 3 7 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti